Sindaco, al Senato c'è stata la rottura, sembrerebbe definitiva, fra Lega e Movimento 5 Stelle. Il Senato ha bocciato la mozione dei 5 Stelle. Di Mario Salvini non si sono neanche guardati, neanche salutati. Secondo lei il governo ha le ore contate? Io non vedo più come possa il Movimento 5 Stelle continuare a sostenere questa alleanza di governo fondata su un contratto. Il Movimento 5 Stelle è di gran lunga il partito di maggioranza relativa. Viene sconfessato su uno dei loro, a parole, cavalli di battaglia che è Notav, nel momento in cui il Parlamento boccia la mozione del Movimento 5 Stelle, io credo che in un paese in cui prevale la Repubblica parlamentare bisogna prenderne atto e interrompere questa esperienza di governo. Da persona che non fa parte di questa maggioranza e che non è alleata con queste compagini parlamentari di governo ci potrebbe anche tornare comodo che continuino a governare insieme, eccetera. Quello che mi lascia veramente sterrefatto è che nel giro di un anno non c'è un punto del programma originario del Movimento 5 Stelle che è stato rispettato. Io da quello che ascolto già dopo la votazione l'altro giorno della legge sicurezza bis è stato un ulteriore tassello della totale perdita di credibilità di quel movimento che comunque del cambiamento aveva fatto una sua bandiera, hanno già tradito sulla TAP, su NoTAP, NoTRIV, sull'ILVA, sull'immunità che hanno dato a Salvini, quindi sulla questione morale e potremmo continuare per arrivare alla votazione di oggi. Quindi se non dovessero staccare oggi la spina al governo vuol dire che tutto sommato è stato anche questo un giochino delle parti, cioè che loro hanno fatto vedere di difendere la loro posizione contro la TAP, sapendo perfettamente che il Partito Democratico, perché lo sapevano tutti, avrebbe votato insieme alla Lega. Quindi se non rompono oggi vuol dire che pur di attaccare alla poltrona non c'è più una bandiera a chiacchiere del loro programma politico che loro in qualche modo difendono, quindi ormai stiamo veramente a redderazione. Io credo che questo Paese non può continuare a stare in balia dello Stato, cioè di un governo che litiga ogni giorno, che c'è un conflitto fondato solamente su chi deve prendere più consensi per poi presentarsi alla prossima campagna elettorale. Siamo in campagna elettorale perenne con una propaganda continua e con un Paese che non è governato. Secondo lei Conte deve salire al Quirinale dopo il voto di oggi che di fatto gli dice che non ha più una maggioranza? Secondo me sì, ma ancora di più è il Movimento 5 Stelle che ne deve trarre le conseguenze, sinceramente. Conte è espressione comunque del Movimento, quindi credo che non ci sono. Ripeto, in un Paese che mantiene un minimo di equilibrio costituzionale nei rapporti tra politica e istituzioni, dopo la votazione di oggi, in qualsiasi altro momento democratico del nostro Paese, il partito, ripeto, di maggioranza relativa. Quindi non è... All'incontrario si poteva anche spiegare, se fosse stata bocciata una mozione della Lega ci poteva anche stare che non si arrivava a una rottura definitiva, perché la Lega è il 17% in Parlamento. Nel Paese ha la Lega il 34%, probabilmente anche di più, e i 5 Stelle già nel 17%, ma invece come senatori e deputati ci troviamo di fronte al Movimento che ha la posizione più forte, quindi non può che trarsene le conseguenze. Altrimenti, ripeto, se non ci sarà questo passaggio di crisi di governo, vuol dire che è un gioco delle parti questa emozione. Cioè il Movimento 5 Stelle ha fatto vedere di difendere la loro posizione, già sapendo però che avrebbero perso, perché lo sapevamo tutti che avrebbero perso. Quindi nel momento in cui perdi, e quindi passi in minoranza su un tema che è centrale nel tuo programma, almeno a parola, ecco qua capiremo se era centrale o non era centrale, perché se è centrale è uno di quei temi dove trae le conseguenze, non ci sono più le condizioni, tra l'altro nel contratto questa questione era anche posta, questa è la TAV, quindi veramente una continua presa in giro del Paese, ma soprattutto quello che a noi ci preoccupa è che è un Paese che non è governato, perché c'è una continua propaganda elettorale, ma nemmeno separata in casa, perché poi la gran parte della politica la fanno fuori dalla casa, quello che la fa sulla spiaggia del Papete Beach col Bermuda, gli infradito, e così governa apparentemente il Viminale, gli altri che lo rincorrono e perdono ogni giorno, quindi sembra quasi una votazione, come dire, a una specie di suicidio politico per cui sta andando incontro il Movimento 5 Stelle, anzi io penso che sia già troppo tardi, da quello che percepisco loro hanno già consumato molto di quel tempo politico che gli poteva consentire di recuperare, quindi adesso stiamo invece nella crisi istituzionale, cioè che in una Repubblica parlamentare, nel momento in cui viene bocciato su una questione centrale, se è partito di maggioranza, il Presidente del Consiglio che ha attraverso il Partito 5 Stelle la sua investitura principale dovrebbe trarre le conseguenze, se è vero che questo è un argomento centrale oppure semplicemente un argomento così per fare un po' di propaganda sulla pelle poi delle comunità della Valsusa, a cui invece va la nostra totale, la mia totale vicinanza e solidarietà, perché noi non ha parole, ma con i fatti, quando sposiamo una battaglia, la portiamo avanti fino in fondo, e quindi la coerenza e la credibilità in politica sono cose molto importanti.